E per oggi una nuova avventura, ho deciso di preparare l'iris gigante. Di certo non è stato facile, però mi sono divertita. Vediamo insieme come preparare. Per prima cosa facciamo l'impasto, quindi mettiamo tutta l'acqua dentro il boccale. Quindi scaldare il tutto 1 minuto 37 gradi. Velocità 2, calore 2. Trascorso questo tempo aggiungiamo lo zucchero e il lievito. Quindi mettiamo il coperchio ed emulsionare il tutto 20 secondi a velocità 4. Aggiungiamo tutta la farina. Iniziate a lavorare gli ingredienti. Io in questo caso 5 minuti a velocità 3. Nel foro ho aggiunto il sale e successivamente lo strutto a fiocchetti. Come potete vedere questo è il risultato dell'impasto. Trasferite in una terrina un tadd'olio coperta da pellicola e facciamo raddoppiare. Versate tutto il latte nel boccale, lo zucchero, la vanillina, la farina. Cuocere il tutto 8 minuti 90 gradi, velocità 3, calore 7. Ed eccola pronta. Trasferite in frigo e cominciate a lavorare la pasta. Formate una grossa palla. Trasferite in una teglia fuderata da carta forno. Caprite con la pellicola, facciamo raddoppiare e poi la cottura è 180 gradi per 20-25 minuti circa. Appena il panino si raffredda, tagliare un tondino. Quindi eliminare tutta la mollica all'interno. Questo servirà per accogliere tutta la crema. Come potete vedere si presenta così. Adesso farcire con tutta la crema ottenuta. Se volete potete utilizzare anche della crema al cioccolato. A me piace così. Sludere con il tondino. Adesso passare nella pastella composta da farina 00 e acqua. Maneggiatelo delicatamente perché essendo pesante si rompe. Adesso siamo pronti per la panatura. Passate nel pan grattato e panare molto bene. Facciamo riposare per circa un'oretta in frigo. Io l'ho lasciato tutta la notte. Prigere in abbondante olio di semi e scolare su carta assorbente. Ed eccolo pronto da gustare.